buongiorno amici cavaroni mi trovo al passo falzarego senza silvia perché purtroppo oggi lavora sono le sette e mezza e l'aria veramente molto frizzantina oggi farò un giro che attraverserò la forcella averau la forcella nuvolau arriverò in cima al monte nuvolau dopo farò una ferrata tra l'anello basso che circonda le cinque torri e ritornerò al passo falzarego sono arrivato in cima a croda negra questo il panorama a 360 gradi in full hd e dopo aver raggiunto la cima di coroda negra è giunto l'omento di scendere verso forcella averau e ora il cammino prosegue per raggiungere la forcella nuvolau e ora inizia il tratto di ferrata dopo aver passato il bivio vi dirigo verso il rifugio cinque torri per poi fare il giro sotto le cinque torri appena finito il giro delle cinque torri veramente molto bello ed emozionante consigliato passato anche il rifugio col gallina ora non rimane che arrivare al passo falzarego se ti è piaciuto questo video clicca metti mi piace e se vuoi rivedere questo video insieme ad assiglia iscriviti al canale solo così potrai continuare a esplorare il mondo con i piedi di capra ciao 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 ciao